quando è divertente si molto divertente dai dai ciao 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 come state? ah bene mi fa piacere che avete detto tutti bene 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 male 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 bene bene male allora innanzitutto perché hai cliccato questo video? beh è open non vuoi consumare bene kit medici io vi consiglio le carote come sempre come ho spiegato nel video precedente le carote sono molto molto ottime quindi innanzitutto ci troviamo nella zona rossa aspettate io non frego nessuno io non frego nessuno quindi guardate esco sto nella zona rossa ecco aspettate 5 secondi 3 2 ecco nella zona rossa entro di nuovo guardate senza tacchi ecco non ci credete? ok muove i mouse perfetto ah installa la prossima allora ok ci siamo allora io sono qui per trovare un motore quindi mi sono chiesto perché non fare un video almeno spiego a voi come farmare senza consumare band allora io nel mio inventario non ho niente solo questa si bene metto 20 carote qui allora io non vorrei correre no io non corro per favore io non corro tutto no 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 ciao allora io ho in mano solo una lancia quindi ecco ti pareva non ho provato niente quindi non mi basta che ecco ecco ti pareva ti pareva ti pareva ecco sì sì è un vero fatto allora adesso io mi cubro delle carote ecco come faccio visto? sto farmando nella zona rossa una delle zone più pericolose di last day on earth con una lancia tutto nudo con delle carote ok vediamo cosa questa è una grande fortuna eccolo 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 imminent me ha colpito aห bingo актиìììììììììììììììììììììì mi sa mi sa che vi sto annoiando giusto si ecco adesso ci divertiamo un po dai basta con il punk stonna quando è divertente si molto divertente dai dai è quasi finito quasi finito professionista bene adesso puzzo ora la missione si fa difficile veramente molto molto complicata quindi senza una lancia senza vestiti sto finendo le cure mi sa mi sa che qui morirò ma non farò questa fine ti prego madonna mia non c'è un maledetto motore eh si si tutta la festa si si no no ragazzi devo scappare quindi avete capito il trucchetto quindi come avete notato io ho farmato e sono uscito vivo per un pelo 9 di vita di cura avevo le vende non le ho usate va bene anche gli stivali potevo correre di più comunque vi ho quello consiglio mettete anche degli stivali che vi permettono di correre più velocemente quindi usate anche gli stivali stivali no stivali scarpe vabbè sono stivali grazie a tutti per questa visione iscriviti al canale se il video ti è stato strautile noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti